ciao ragazze oggi vi propongo un video molto facile e veloce per come fare le onde il nostro corso gratuito www.mesmerism.com 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 prendo una pena lo svito e userò solo il tubo questo qua e 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